questa meditazione serve per imparare a conservare l'energia nel corpo utilizzeremo la respirazione prenatale che permette di azionare la circolazione dell'energia del lien chinhua o piccola circolazione celeste è una tecnica che proviene dalla scuola taoista del nord il cui principio è quello di utilizzare il proprio corpo per trasformare il ching l'energia strutturale del corpo in chi l'energia che lo anima i taoisti la definiscono il segreto delle tre ruote siamo seduti su una sedia o uno sgabello in una posizione comoda con le gambe leggermente divaricate la schiena retta e i piedi ben appoggiati al pavimento il capo è retto il mento dolcemente rivolto verso il petto e gli occhi sono chiusi portiamo le mani a coppa con i palmi rivolti verso l'alto e appoggiate davanti all'addome la mano destra è appoggiata sul palmo della mano sinistra per gli uomini le donne invece appoggiano la mano sinistra sul palmo della mano destra le dita sono rilassate e i pollici si toccano questo gesto delle mani è chiamato sigillo solenne ci in un gesto di meditazione e contemplazione praticato per favorire la calma e il recupero delle energie le mani diventano una sorta di coppa che accoglie ciò che di nuovo arriverà con la meditazione tramite questo punto opposto al centro del palmo della mano che si chiama laogong il palazzo del lavoro tieni gli occhi chiusi per interiorizzare la pratica questa è una meditazione molto efficace per imparare a conservare l'energia nel corpo andremo a utilizzare la respirazione prenatale che permette di azionare la circolazione dell'energia del lien qin hua ovvero raffinare la jing per trasformarla ed è riferita alla piccola circolazione celeste xiao chou tien una variazione della meditazione il segreto delle tre ruote le tre ruote sono il respiro e la parte anteriore posteriore della piccola circolazione celeste le palpebre sono chiuse ma gli occhi continuano a guardare come se fossero aperti e concentrati all'interno del corpo nel basso tantien tre dita sotto l'ombelico chiamato anche campo di cinabro immagina e poi senti il tuo respiro che assieme all'energia inizia a scorrere il tuo corpo internamente partendo proprio da questo punto portiamo tutta la nostra attenzione al basso tantien la fonte della nostra energia e sentiamo che il nostro respiro assieme all'energia da qui inizia percorrere il nostro corpo internamente e l'energia del tantien che scorre ispirando porta la tua attenzione al punto huijin porta della terra posto nel perineo e contrai lo stomaco visualizzando il respiro che percorre il meridiano governatore tu mai passando dal pavimento pelvico su verso l'osso sacro la base dei reni la base del collo la punta della testa la fronte fino al labbro superiore con l'espiro lasci la contrazione al pavimento pelvico inizia a percorrere il meridiano concezione ren mai espandi lo stomaco porta la tua consapevolezza dal labbro inferiore verso il basso lungo la gola il cuore lo stomaco l'ombelico il basso d'antien e l'addome fino al pavimento pelvico nel punto huijin poi si riprende a contrarre il punto huijin nel perineo e ispirando si porta l'energia assieme al respiro su verso la base della schiena fino al punto migmen la porta del destino dove c'è l'insenatura fra i reni a questo punto si lascia la contrazione mentre si percorre l'interno del corpo espirando raggiungendo l'ombelico e percorrendo tutto l'addome fino al basso d'antien per ricongiungersi al perineo la respirazione attorno al basso d'antien è lenta e calma rimani un attimo trattenendo il respiro con l'attenzione al punto huijin nel perineo per poi ripartire con la respirazione e la visualizzazione fatta all'inizio in questo modo si creano due cerchi uno grande che coinvolge tutto il tronco e uno piccolo che gira attorno al basso d'antien inspirando porta l'attenzione al punto huijin porta della terra posto nel perineo contrai lo stomaco visualizzando il respiro che percorre il meridiano governatore tu mai passando dal pavimento pelvico su verso l'osso sacro la base dei reni la base del collo la punta della testa la fronte fino al labbro superiore lascia la contrazione mentre espiri espandi lo stomaco e porta la consapevolezza al labbro inferiore verso il basso lungo la gola il cuore lo stomaco l'ombelico il basso tantien e l'addome fino al pavimento pelvico ora contrai il punto huijin nel perineo ispirando porta l'energia assieme al tuo respiro verso sulla base della schiena fino al punto mig man la porta del destino fra i due reni a questo punto lascia la contrazione ed espirando raggiungi l'ombelico percorrendo tutto l'addome fino al basso tantien per ricongiungerti al perineo ripeti la respirazione per almeno cinque volte con il tuo tempo lentamente e quando è finito lascia libero il tuo respiro visualizza il basso tantien lascia che l'aria esca liberamente lascia liberi i pensieri senza contrastarli o indirizzarli appoggia le mani sulle cosce con i palmi rivolti verso l'alto e rimani in ascolto con la pratica si potrà sentire che la circolazione dell'energia in tutto il meridiano è simile ad una ruota che gira i taoisti paragonano questo processo ad una ruota idraulica che gira senza fine per mezzo dell'azione propulsiva dell'acqua che scorre per questo viene definita il segreto delle tre ruote dell'acqua che scorre per questo viene definita il seguito dell'acqua che si potrà sentire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.